Non siamo arrivati alle mani, però non ho capito che intenzioni avevano, ma non erano sicuramente pacifici. Con semplicità Raffaella Bazeo racconta ai nostri microfoni la disavventura che l'ha vista, suo malgrado protagonista assieme al marito, sabato scorso. Erano circa le 22.45 e a bordo della propria autovettura Raffaella e il marito avevano accompagnato due amici, padre e figlio, al capolinea delle linee di autobus che portano sull'altipiano. Come siamo arrivati in piazza Oberdan, un gruppo di ragazzi ci hanno aperto la macchina e ci hanno aggredito, verbalmente, fortunatamente, perché non siamo arrivati alle mani, però ho passato cinque minuti veramente di paura, perché non ho capito cosa volevano fare. Gli aggressori, stranieri, che urlavano Pakistan, Pakistan, sono stati messi in fuga piuttosto rapidamente. Ma allora, io ho visto un signore che non saprei dire chi è, comunque parlava in triestino, era venuto là a prendere la figlia che doveva arrivare da qualche parte, non ho capito da dove, e poi ho visto arrivare i carabinieri e come sono arrivati i carabinieri io sono andata a casa e poi i carabinieri sono venuti a casa mia a prendere la deposizione di quello che è successo. Quanto è accaduto a Raffaella Bazeo, sottolineano le forze dell'ordine, al momento rappresenta un episodio fortunatamente isolato. In ogni caso, fatti del genere rendono l'idea che qualcosa, magari impercettibilmente, anche a Trieste sta cambiando. Ho sempre girato, sono andata a ballare, feste, anche di notte e non ho mai avuto paura. Sinceramente adesso le persone che hanno figli, che vanno in giro, è giustamente, è giusto che vadano, per l'amor del cielo, però io li terei un po' d'occhio perché a me fa più paura adesso. Saranno gli anni, saranno gli anni che sono passati, magari a vent'anni si è un po' più sbarazzini, si è più così, non ci si pensa tanto, ma andando avanti con l'età sì.